Decine di culture da tutto il mondo si ritroveranno a Napoli per il primo festival internazionale mai realizzato in Italia. Ad ospitarlo sarà la mostra d'oltre mare nei weekend dal 30 giugno al 2 luglio e dal 7 al 9 luglio. Una superficie di oltre 150.000 metri quadrati accoglierà contemporaneamente 15 festival tematici dedicati alla musica, all'enogastronomia, al folklore, all'artigianato e alle tradizioni di alcuni dei più affascinanti paesi del mondo. E' in questo contesto che si inserisce anche Napoli con il suo patrimonio, le sue bellezze, i valori e le eccellenze partenopee. E' un duplice festival, chiamiamolo così, perché è al tempo stesso un festival di Napoli, quindi un omaggio alle eccellenze partenopee nel mondo e Napoli incontra il mondo, quindi le eccellenze di Napoli che incontrano le eccellenze mondiali. Quindi è al tempo stesso un format dedicato alla città di Napoli, alle sue bellezze, alla sua ricchezza culturale, artistica, folcloristica, alle tradizioni, a tutto ciò che insomma rende Napoli una delle città più belle del mondo, conosciuta a livello internazionale, ma anche un omaggio invece agli altri paesi, alle altre realtà. Per la prima volta che si fa un festival di Napoli, su Napoli, per Napoli e Napoli che incontra il mondo. Da come ho visto in queste settimane il processo di organizzazione sarà un grande successo. E' molto bello ospitare le culture di ogni tipo di tutto il mondo nella nostra città che presenta una proposta culturale eccellente. Io davvero sono molto soddisfatto perché adesso abbiamo completato un altro festival che per la prima volta si è tenuto, sulla rigenerazione urbana di Sky ed è stato un grandissimo successo, il maggio dei monumenti sta andando benissimo. Soprattutto tutti sottolineano l'eccellente capacità organizzativa di tutta la città. La manifestazione conduce il pubblico di visitatori in un viaggio virtuale a chilometro zero dove si potrà attraversare in un attimo l'intero continente. Dalle tipicità napoletane alle atmosfere celtiche alle danze irlandesi ai sapori della Spagna alle atmosfere orientali e di diverse altre culture. Una città che sta rispondendo con passione, entusiasmo, competenza, forza, energia da capitale. Senza mai smarrire la propria identità, senza mai essere presupponente e presuntuosa, ma sempre con l'umiltà che deve caratterizzare una città come Napoli, con le sue sofferenze e le sue ferite. Ma oggi Napoli sta mettendo in campo tutta la sua potenza. Cioè quello su cui abbiamo lavorato in questi anni adesso si sta vedendo e questo è frutto, lavoro e merito esclusivamente agli abitanti di questa città.